La Damanur è una comunità molto organizzata e voi non lo crederete, abbiamo così tante cose in comune con gli elfi che a prima vista non si è vere, ma in realtà ce ne abbiamo veramente tantissimi. Però parliamo delle differenze, le differenze sono che in questo momento appunto noi siamo circa 600 persone che vivono completamente all'interno della comunità e che viviamo non tutti in un posto ma in diversi posti e che noi chiamiamo nuclei, dei gruppi più piccoli che sono da 15 a 25 persone, a volte anche 30 e ognuno ha un progetto, ha un progetto all'interno della comunità che porta avanti proprio come ricerca e che porta attraverso l'incontro settimanale anche le risultanze di questa ricerca a tutti quanti gli altri nuclei. Noi abbiamo una struttura sociale, abbiamo una struttura politica, abbiamo una scuola, abbiamo una società in miniatura, abbiamo penso tutto quello che mi possiate chiedere a livello di cose normali in una società, noi ce l'abbiamo. E ci teniamo proprio a... perché la nostra filosofia prima di tutto è l'azione. Damano nasce su un impulso di ricerca spirituale, ma per noi la spiritualità è una cosa estremamente concreta, è un profondo rispetto della vita che ti porta ad avere come filosofia l'azione, cioè quella di trasformare la materia, quella di portare quello che noi pensiamo, lo spirituale o il divino, dentro alla materia. E così noi facciamo tante cose, abbiamo costruito tante cose, abbiamo costruito un tempio sotterraneo di otto sale e che è praticamente dove all'interno di questo tempio non c'è nulla che non abbia un significato. Ogni cosa ha un significato, perché per noi spirituale significa anche dare significato alle cose. Per cui noi abbiamo una società in cui diamo tanto significato alle cose, cerchiamo di non usare brutte parole, parolacce, perché pensiamo che una sostenibilità è anche legata all'espressione, così come cerchiamo di avere un tipo di rapporti, cerchiamo di avere dei rapporti armonici tra di noi. Questo non significa per niente che non abbiamo dei conflitti, anzi. Però per noi anche il conflitto è una cosa che è benvenuta, perché ci dà l'opportunità di arrivare da un'altra parte. Siamo sicuramente una comunità società che cerca di migliorare questo mondo. Noi, penso come quasi tutte le comunità, nasciamo da un impulso di voler migliorare questo mondo, per non dire di salvare questo mondo, ma comunque di fare qualche cosa di diverso e che abbia un significato e che possa anche essere d'esempio. E così appunto noi facciamo moltissimo lavoro su di noi come individui, perché come individui se tu hai un gruppo, il gruppo è forte soltanto se l'individuo è forte. E così, di fatti, l'ho già detto stamattina in qualche momento, però io credo che la cosa più importante è che la comunità è basata su un individuo forte e che dentro la comunità l'individuo può veramente esprimere i propri talenti e le proprie capacità molto di più che non in qualsiasi altra situazione abitativa, di vita, eccetera, eccetera. E chiudo con questo che mi ha già suonato la campana. Se volete saperne di più, io sono poi lì. Grazie. Grazie.